Io sono Raffaella Tampanello Studio Delta Live Andrei a telepare Più che altro Chiaia qui E se vuoi bacizzare un po' Certo, certo Sì Sì Poi, sei Sì Non passi Né 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 Ok Andiamo a cena dopo? Io devo chiederlo allo zio perché lo sai. E' un po' di foschi malacchi. D'accio. E' troppo finito. Va bene. E sono la faccia di colpo. Ok, ti aspetti. A seconda ci potrebbe anche stare. La terza. Adesso provate con lui. Lei non mi sa da ridere. Ciao Marco. Lei è trovante. Scusami. 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 Pienete un po' di acqua voi. Scusami. Sai che se vai i due campers... No, ma l'esseremo giusto appena una cattolina o una cosa. Siamo tutti i grandi d'azienda, sono Zing, superfemmio studio mobile dietro al palco. Grazie per la visione! Ho bagnato un ombretto di identico colore leggermente più chiaro e ho sfumato. Se voi dopo ti faccio vedere... Sì, è quello che a me non riesce. Non c'è bene subito, no? Non troppo vicino che vi spaventate. Con l'unica taglia della città. A ruota, tui gli ingenti di superlanta, superlanta la comunità che è il ritmo del serlo! Superlanta, la comunità che è la base di questo... È il ritmo! Sì qua! La comunità del solito è la base di uomo da pubblica, E percussioni Martin Zetta che oltre a suorare il benissimo violino è anche un bravo Dogalesta sotto questo nome è Laito Ernest e hanno realizzato una buon Richards discografica veramente importante non c'erano gli strumenti elettronici gli strumenti sono noti da Pico per creare altri musici infatti vede, uno e quattro questa sera noi ci sono i Free Light Orchestra grazie a tutti ciao ciao ma chi sono? ma chi sono? sono giovanissima mi sentono la roba è stata veramente una domanda ci è successo anche il tuo gioco in mezzo, sì 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 in tappo in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo questa sera ci canta Pico e niente come te stiamo a nascendo ciao c'è la vita ciao c'è la vita ciao 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 Ah, pur forse non spesi E' tornata simpatica improvvisamente, improvvisamente mi sei tornata simpatica. Sabanelle. Grazie! Suave, tutti insieme! Suave, me sta stavando suave, me sta gustando te ma tu mi è il mare che mi ha rivelato con l'alma. Grazie, grazie! Grazie ragazze! Andiamo a salutare comunque il nostro canale e anche Romano, è una professione che è un po' di noi, e adesso ci andiamo a rinforare, e ci? Non ci seguo comunque! No, è un po' di noi, non ho avuto malattie! Zanotti, ed è il tattante di un gruppo che si chiama Deasonica, loro sono di Milano, sono presenti, sono io da ormai dieci anni e non ho avuto per Mars, con lui vengerò una mezza che si chiama Z3, vi daremo uno singolo e poi vi faccio! Vuoi fare un po' di cosina? Siena! Infatti lo sto proprio per facendo! Si è passato! Perchè è rinforzato! Perchè è rinforzato! Perchè è rimforzato! E adesso sono difficili! Per di un giorno, un bello di buo siel E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor, lasciai un vento, poi il sogno mi scaverà nel tuo momento, che non ti chiamano per te. E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor, lasciai un vento, poi il sogno mi scaverà nel tuo momento, che non ti chiamano per te. E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor, lasciai un vento, poi il sogno mi scaverà nel tuo momento, che non ti chiamano per te. Maxi! E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor. E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor. Meglio sotto? Certo, e questo è per te, carico, però, questo è bello. E' la nuova vita, alcun ragione, di me ne vieni a rimuor. Cominina stasera. Cominina stasera. E per questo inverno voglio la singola, va bene? Non ci dormo. Vabbè, vabbè, è tutto show, è solo un grande show. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè.